Dipendenti regionali sul piede di guerra. All'interno degli emendamenti che riguardano la riforma del personale, ci sono norme che dovrebbero essere sottoposte alla contrattazione tra Stato e Aran. Tra gli emendamenti della finanziaria regionale contestata dai dipendenti regionali, c'è quella delle assenze per malattia. I dipendenti che vorranno assentarsi per malattia saranno penalizzati tre volte in più rispetto agli altri dipendenti statali. Il segretario regionale del sindacato Cobas Codi, Dario Matranga, spiega che star male per un dipendente della regione Sicilia vorrà dire perderci di tasca propria. Un altro tasso donente riguarda le pensioni e i prepensionamenti. Le norme previste per riformare la materia cercano di avere un alto contenuto etico più che raggiungere un vero e proprio risparmio per le casse della regione, lamenta il sindacato e i regionali. Le norme previste in finanziaria prevedono che tutti i dipendenti passino al sistema contributivo, perdendo tutto quello che hanno maturato nel tempo. Un esempio è quello di un dipendente che ha uno stipendio di 1.500 euro prima di andare in pensione. Avrà una pensione invece di 800 euro. I dipendenti statali sono passati a questo sistema dal 2011, ma hanno avuto il tempo di maturare pensioni integrative. La manovra riguarda anche i prepensionamenti, con la quale l'assessore regionale all'economia Alessandro Bacciai vuole risparmiare 100.000 euro, ma prevede una penalizzazione per i dipendenti più anziani che sono stati assunti prima del 1986. Il sindacato dei regionali prevede che i dipendenti più anziani ad andare in pensione saranno circa 1.300 e avranno una penalizzazione del 10%. Stranamente invece i dipendenti che sono stati assunti prima del 1986 non avranno alcuna penalizzazione. Questi saranno circa 1.000 persone. Il risparmio previsto da Bacciai avverrà a discapito delle tasche dei dipendenti più anziani. Domani è previsto uno sciopero dei dipendenti regionali. A Palermo il concentramento e il presidio sono previsti a partire dalle 9.30 in piazza del Parlamento davanti al Palazzo dei Normanni. Mentre a Catania il concentramento è previsto alle 9.30 davanti alla Prefettura e il corteo si dirigerà verso Palazzo della Regione.